Ho parlato la settimana scorsa dicendo che questa sarebbe stata una serie dei pesi massimi, un incontro tra due squadre molto forti. Questo è esattamente quello che si è visto in campo questa sera. Nessuna delle due squadre ha giocato una partita perfetta, ma entrambi hanno matchato, appaiato, hanno reagito alla fisicità degli avversari. Loro sono la squadra che fa molte cose molto bene e noi sappiamo che per riuscire a battere dobbiamo essere al nostro meglio in tanti aspetti in difesa. Penso che ci sia venuto tutto talmente fascino nel primo quarto. Che siamo caduti un po' nella trappola di pensare che tutta la partita sarebbe stata uguale al primo quarto. Nelle ultime settimane mi ha fatto un ottimo lavoro a mettere sempre la palla in aria con una penetrazione con un post basso prima di prendere un qualsiasi tipo di tiro. E penso che nel secondo quarto è questo che ci sia mancato. Abbiamo perso l'identità di attaccare l'area per poi riaprire e prendere un tiro. Sono molto contento che la nostra squadra sia stata capace di resettarsi un attimo e di cambiare questa cosa nel secondo tempo e di sistemarla. Questo mostra una grande crescita da parte della nostra squadra. Siamo fortunati di avere un team di giocatori esperti che sono stati in queste situazioni prima. Ci siamo affidati a loro, siamo appoggiati su di loro in così tanti modi durante il corso dell'anno. E ci affideremo ovviamente ancora di più a loro in questa serie. Penso che esperienza e comprendere il momento conti molto. E quel gruppo stasera che ha avuto la possibilità di entrare in campo insieme capisce bene questa cosa e lo ha dimostrato.